Il calendario per la Sir Safety Perugia, l'esordio, è in trasferta a Piacenza il 2 di ottobre. C'è ancora da risolvere definitivamente la Cherel Pallevangelisti, anche perché Perugia vorrebbe ospitare la Supercoppa a settembre. Comunque la prima di campionato in casa è il 9 di ottobre contro Padova. Alla sesta giornata il primo scontro tra Big, la Sir è infatti ospite di Trento il 29 ottobre. Il match successivo è il remake della finale Scudetto al Pallevangelisti che vedete nelle immagini contro Modena. La data è il 1 novembre. Poi a Civitanova si chiude il trittico di Big Match per la formazione di Kovac all'ottava giornata.